Ho fatto un minimo di contouring in questo caso, la cemente è che dovrò dare un po' più di prosodità al viso. Sono le bottiglie in esposizione. Questo sarebbe il topo finale. Esatto, andiamo ad uniformare il tutto, rendere il tutto il più naturale possibile senza troppi distanchi. Siamo pronti. A voi vi piace? Questo è stato il Make Up Flash con Francesco qui a Milano per Dio. Grazie.